Mamma mia che errore di Benasserra! Benasserra è un assist per il Bologna, Barro controlla male, meno male Cosa è che Barro ha sbagliato? Dai, oh, attenzione ragazzi! Attenzione, 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 Leao! Un gol ancio! Ma che fa? Skorupski! Cosa ha fatto Skorupski? È uscito di testa? Leao, Leao, conquista palla dalla destra, si incunia in aia, approva il tiro di sinistro Ma Skorupski... Leao, Leao, Leao! Tiro! Goal! Goal! Che gol! Ma che gol ha fatto? Gran diagonale di Leao, esultanza disumana di Crudeli! Ed è gol! Crudeli! Ed è gol! Crudeli! Dedicata a chi mi ha riservato il riletto su un giornale importante Esultanza disumana di Crudeli! Ed è gol! Gran diagonale a mezza senza di Leao! Ma chi ha segnato? 1-0! Chi ha segnato? Ragazzi Raffa Leao! Chi ha segnato? Leao meravigliau! Dillo! Dillo! È un fattore Raffa Leao! Bello il passaggio di Ibra! Leao meravigliau! Leao meravigliau! Ma che Leao meravigliau! Bella partita! Comunque questo è un gol fortunoso! Leao si è inserito bene con un bel passaggio! Ha trovato la deviazione! Gran palla di Ibra! In un momento che il Bologna comunque stava giocando bene! Che dire! C'è poco da aggiungere! L'avete visto voi! Comunque è una gran bella partita fino adesso! Secondo me non è finita così! Assolutamente no! Attenzione! Un'altra occasione da gol! Attenzione! 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 Andava in porta! Eh beh! Però detto questo siete contenti adesso voi milanisti che è tutto facile! No no! È difficilissimo lo stesso! Siete contenti? No no! Attenzione! 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 Io queste provocazioni fatte di basso profilo non le accetto nella maniera più assoluta! Soprattutto fatte da uno che ha masticato il calcio ed è stato un buon protagonista del calcio! Va bene va bene! Ci si riduce così dopo aver visto l'interno! La secola è il problema! Allora dalla sinistra va sul fondo! Un altro ve lo cacciano! Attenzione! Skorumski! Attenzione! Goal! 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 Urlo disumano di Crudeli! Gol di Calabria! Gran tiro d'esterno destro! Ed è gol di Calabria! Urlo disumano di Crudeli! Ed è gol di Calabria! Dai, dai! Dai Soriano, dai! In che senso? Tizio, attento, attento, attento! Attenzione! Goal! Ecco, attenzione, 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 vedi Mihailovic, se ve l'ho detto, state attenti! Allora, inquadrate un sacco di giocatori, tra poco vi diciamo bene, forse autogol di Zlatan Ibrahimovic! No, però, no, ma vedi, le partite fai in fretta a riaprirle, eh! Esatto, esatto, bravo! Infatti, questo è già il momento di aprire! Però a te dispiace anche tanto, eh! No, ma io gli avevo detto, Enrico, Enrico, vedrai che Mihailovic, io non so come si chiama! Però non è finita questa partita! Non è finita! Mamma mia, ragazza! Attenzione, Barro! Attenzione! Goal! Sì! Goal di Barro! Sì! Incredibile! Goal del Bologna, ragazzi, stavo vedendo se era fuorigioco! Incredibile! Incredibile! Hai visto le partite? Gelo in studio! Non lo so, se fuorigioco lo vedremo! Incredibile! Non sapevo che Mihailovic faceva quella roba lì, eh! Incredibile, ragazzi! Non sapevo che Mihailovic sbroccava! Grazie! Il gol di Musa, Barro! Clamorosa al Dallara, Bologna in nove uomini! Benasser, Ibra, Tomori, Benasser, Cross! Eccolo! Oh! Che parata! Colpo di testa di Giroud! Che parata! Si distende, si distende, si distende bene l'estremo difensore del Bologna! Mamma mia, ragazzi! Siete via, attacca ancora il Milan! Ma questo è così i Skorupski! Si è detto di tutto i Skorupski, parata Clamorosa! Attenzione, pericolo! No! Esce Tatarusano e va a chiudere! Mamma mia! Occasione per il Bologna! Ma dov'è la difesa del Milan? Dov'è la difesa del Milan? Aiuto! Colpo di testa, parata Tatarusano, ma ancora di testa, non la meglio giocatore del Bologna! All'attenzione, le partenze del Nieve! Manma anche Santa Verde! Cross! Aiuto! Aiuto! Oh! Goal! 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 Urlo disumano di Crudeli! Goal! 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 No! Goal! Grandissimo gol di Ismail Benassar! Goal! 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 È un salto di Ismail e di Crudeli! Goal! 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 Ibra! 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 È chiusa! Ibra! è chiusa questo questo Ibra questo Ibra tizi è la prima roba che fa da Ibra Imo giocando male un assist e un gol un assist e un gol il resto 4 è finita è finita è finita così è finita così a Bologna Milan 4 Bologna 2 i gol in sequenza sedicesimo Leao ventesimo espulso Sumarò al trentacinquesimo Calabria porta il Milan sul 2 a 0 al quarantanovesimo Autorete di Ibraimovic 2 a 1 al cinquantaduesimo Barrow Parezza 2 a 2 al cinquantasettesimo espulso Soriano all'ottantaquattresimo Benasser rasoiata stupenda 3 a 2 all'ottantottesimo Ibraimovic destro a fil di palo 4 a 2 4 a 2